Bene, ciao a tutti, buonasera, benvenuti a un altro video di quelli che io odio, che sono quelli di carattere politico. Lo so, avevo promesso di non farli più e purtroppo quando una roba mi colpisce così da vicino non sono capace di star zitto il mio carattere, per cui lascio questa brevissima risposta a Poletti, alle dichiarazioni che alcuni italiani che se ne sono andati all'estero, tutto sommato non sono dei cervelli, non mancano nessuno, non fanno nulla di speciale, per cui è bene che se ne siano andati all'estero, che restino assolutamente dove sono. Per certi aspetti sono anche perfettamente d'accordo, è vero che non tutti gli italiani che vanno all'estero sono dei cervelli, dei potenziali premi Nobel, io ad esempio sono un cretino qualsiasi, il mio paese non sentirà assolutamente la mia mancanza, non svolgo un lavoro particolarmente da genio della lampada, però questo aggiungo anche una cosa Poletti, che questa è la peggior aggravante che tu potessi addurre al lavoro che hai fatto in questi anni. Perché quando ad andarsene da un paese è uno che è uno su un milione, è un potenziale premio Nobel e per vincere quel premio Nobel ha bisogno di lavorare in un paese che abbia un acceleratore di particelle da 20 km di diametro, cazzo ci sta che questo se ne vada. Al CERN ci lavorano francesi, inglesi, australiani, americani, gente di tutte le nazionalità che sono il canonico uno su un milione e ci sta che il posto che possa soddisfare quel tipo di esigenze, che possa dare quel tipo di spinta a un genio di quel tipo, cavolo, sia uno su un milione. Ci sta perfettamente. Quello che è gravissimo è quando se ne va un pirla. Un pirla come me, quando se ne va, un politico come te dovrebbe guardarsi allo specchio, sputarsi in faccia e darsi del fallito. Vuol dire che non sei riuscito a fare un cazzo, non sei riuscito a fare le basi, le cose più fondamentali che sono garantire un minimo di di sostentamento a un'economia, una forza lavoro che fondamentalmente è fatta da tantissimi pirla come me, che per lavorare hanno bisogno solo di un computer, di un telefono o di un muletto, di qualsiasi altra cosa e di un paese che minimamente li tuteli. Mi rendo conto che magari questi argomenti non ti colpiscono perché tuo figlio è chiaro che è un genio e io sono sicuro che non c'è stato nessun nepotismo, nessuna spinta a fargli dirigere quel giornale che la tua fondazione controlla. Ci sarà stato sicuramente un concorso pubblico regolarissimo e tra le migliaia di candidati il genio è scaturito. Guarda caso era tuo figlio però che vogliamo fare, vogliamo negargli un lavoro strameritato per il quale prende 194 mila euro di soldi nostri, però è un genio. Quindi ci sta che tu non capisca come mai una famiglia può sentire la mancanza di un cretino come me. Il motivo per cui ho deciso di fare questa breve risposta è la notizia che mi ha raggiunto qui e mi ha rattristato tantissimo di Fabrizia, della ragazza che è rimasta uccisa nell'attentato di cui ormai si è parlato talmente tanto e ne hanno parlato persone molto più preparate di me per cui è inutile che io ne parli. È inutile che io ne parli però capisco perfettamente la gioia, la felicità che si può provare in una cosa semplice come visitare un mercatino di Natale e scegliere i regali per i tuoi cari sapendo che tra qualche giorno li vedrai. Perché sono pochi i giorni che puoi passare insieme alla tua famiglia, perché sei all'estero, perché stai facendo altro. Quindi immagino quella sensazione di felicità sapendo che tra pochi giorni potrai riabbracciare la tua famiglia che ogni istante sarà prezioso spezzato da un cretino che qualcuno ha convinto che uccidendo persone simili avrà 12 vergini da scoparsi. Poletti io ti invito a andare nel paese, nel quartiere di quella ragazza e magari provare a dire che lei non mancherà nessuno e spero tanto che quando lo farai agli italiani saranno ricresciute le palle. Mi fai schifo. Buon Natale a te e a tuo figlio.